Fare i conti con l'ambiente 2014, siamo alle battute finali, siamo con i due condirettori della manifestazione, Mario Sonseri e Giovanni Montrezori, vogliamo fare, tracciare un bilancio di questi tre giorni? Siamo molto contenti della manifestazione perché siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo, nel senso di mettere assieme persone da diverse formazioni, diversa cultura, farli parlare, incontrare, far rinascere un linguaggio comune perché dobbiamo imparare a capire che dobbiamo comunicare e comunicare con il giusto linguaggio e la parte tecnica è fondamentale in questo. Ecco, oltre alla parte tecnica abbiamo fatto un esperimento oggi a cui ha partecipato anche Giovanni, cioè questo talk show itinerante, intanto come ti sei trovato? Così, tu personalmente, ti è piaciuto? Ma è stata un'esperienza molto interessante, una novità di questa edizione, quindi abbiamo avuto modo di interagire con una trentina di giornalisti ambientali su tutte le tematiche della comunicazione ambientale, dell'usiluppo tecnico dei settori, della percezione di questi settori da parte dei cittadini, quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Poi quello che ci preme è ricordare che la manifestazione non finisce qui, la venda 2014, queste tre giornate sono molto intense, però già dai prossimi giorni tutto quello che è stato prodotto, disseminato eccetera sarà ampiamente contenuto nel sito internet in modo aperto e trasparente, quindi in attesa della prossima edizione del 2015 invitiamo tutti a guardare il sito per consultare gli atti della manifestazione. Assolutamente sì, oltre al sito il blog, il nostro Labelab blog e anche abbiamo avuto una fortissima attività sui social network, quindi su Twitter, il nostro chiocciola Labelab con tantissimi contributi, foto, video, link, articoli che sono in rete già da adesso in condivisione. Quindi niente, grazie ai nostri condirettori, l'appuntamento è a maggio 2015. A maggio 2015, per un anno. Per un anno. Grazie, grazie, grazie a tutti.